wow comincio con 600 grammi di acqua li metto nella pentola poi aggiungo un cucchiaino circa di rosmarino in polvere un cucchiaino di origano una spolverata di curry e una spolverata di pepe curiosissimo di capire cosa stai facendo e anzi non dimentichiamo il sale due bei pizzichi e ora ci spostiamo ai fornelli quindi accendo e faccio scaldare l'acqua poi prendo la farina di mais io ho trovato quella bianca ma va benissimo anche quella gialla comune normale che si trova in tutti i supermercati e vado a pesare 150 grammi 152 va benissimo e ora ci spostiamo di nuovo ai fornelli adesso l'acqua come vedete sta bollendo quindi aggiungo la farina e mescolo con la frusta per sciogliere i grumi poi la fiamma la teniamo non troppo alta io ce l'ho a 7 e continuano scolare con la frusta per circa cinque minuti fino a quando vedrete che sarà diventata bella densa la polenta quasi pronta ci siamo quasi la polenta è pronta adesso ci spostiamo di là al tavolo perfetto ci siamo guardate che bella consistenza adesso la polenta la mettiamo in uno stampo quadrato il mio è anche ricoperto da un foglio di carta da forno perché così poi sarà più facile fare il passaggio successivo della ricetta e quindi adesso verso la polenta all'interno adesso la distribuisco con una spatola uniformemente pensa che mio nonno ci faceva la polenta come sto facendo io adesso quando andavamo in campagna da lui e la faceva raffreddare e poi la tagliavamo a pezzettine la mangiavamo con il latte caldo chissà che buona sì quando beveva ancora il latte tantissimissimi anni fa comunque eh vabbè dai chiusa parentesi adesso guardate qui la nostra polenta la facciamo raffreddare completamente quindi ci vorrà un'oretta circa dobbiamo avere pazienza eccoci qui la polenta è completamente fredda adesso la rimuoviamo e la metto su un tagliere cosa combiniamo con questa polenta adesso adesso questa polenta andiamo a tagliare quindi prendo il coltello però il coltello lo bagno con l'acqua perché in questo modo sarà più facile tagliare la polenta quindi adesso la taglio a metà poi giro e la taglio di nuovo a metà e adesso ogni quadrato lo dividiamo in bastoncini quindi vediamo un attimo prima ricaviamo dei bastoncini più grandi quindi divido ogni quadrato a metà e poi di nuovo poi voi potete farli grandi piccoli quanto volete e così otteniamo dei bastoncini così perfetti adesso riprendo la farina di mais e metto due tre cucchiai nel piatto facciamo tre poi aggiungo anche delle erbe aromatiche io scelgo origano e rosmarino voi ovviamente potete usare quello che vi piace in base ai vostri gusti questa ricetta è bella perché potete veramente renderla di qualsiasi gusto anche alla menta anche alla menta se vi piace volente menta va bene anche un pizzico di sale e poi do una mescolata adesso cosa facciamo prendo dell'olio d'oliva e vado a spennellare i bastoncini prima da questo lato e poi li giriamo e giriamo anche dall'altro lato e facciamo così per ogni bastoncino ora prendo ogni bastoncino e lo passo nel mix che abbiamo fatto di farina di mais e le erbette verranno dei bastoncini di polenta croccantissimi e adesso siamo pronti per cuocere i nostri bastoncini quindi li mettiamo nella frigitrice ad aria a 190 gradi per 20 minuti pronti partenza via prima di andare a vedere come sono venuti i nostri bastoncini lasciate un mi piace a questo video ragazze condividetelo mi raccomando per noi è fondamentale e visto che siamo a natale siamo tutti più buoni e generosi e proprio per questo le nostre ricette le potete trovare scritte da oggi all'interno di un ricettario digitale e insieme avrete anche dei bonus super speciali quindi non perdetevi questa occasione cliccate qui sotto nei commenti e andate a vedere cosa abbiamo preparato per voi pronti prontissimi tre due uno wow wow guarda che crosticina spettacolari senti che crosticina sì sì mamma mia che meraviglia mamma mia guardate qua ragazzi direi che è arrivata l'ora di assaggiare diana direi di sì maionese oppure un'altra salsa che volete fate voi mamma mia ragazzi cosa non sono questi diana che buonità ragazzi incredibili mi piace mi piace mi piace